La Svizzera come ogni anno è stata la cornice del Salone di Ginevra, la kermessa automobilistica che riunisce case addetti ai lavori appassionati e dove i nuovi modelli vedono la luce che nel 2019 è giunta alla sua 89esima edizione. Siamo all'ottavo posto nella classifica dei costruttori, un grande player mondiale, sottolinea il presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli che al Salone di Ginevra ha tracciato un bilancio, ha annunciato che per il 2019 la casa punta nel nostro paese a vendere 34.000 unità. Il Salone di Ginevra 2019 è per Suzuki il momento per fare un po' di bilanci e forse anche per celebrare qualche successo. Di fatto nell'anno appena terminato Suzuki ha realizzato il record storico di produzione e vendita di veicoli a 3.200.000 unità. Cifra che ci proietta all'ottavo posto della classifica dei costruttori. Per volumi, tanto per capirci, siamo a livello di due marchi come Peugeot e Citroen messi assieme. Quindi non quel piccolo costruttore che ogni tanto, con quel termine che ogni tanto ci descrive sul mercato italiano, ma un grande player globale. Non solo le nuove serie 3 e la Z4, ma anche una totalmente rinnovata ammiraglia, la serie 7, che si rinnova nel design esterno e nei contenuti tecnologici. Poi il nuovo modello della X7 e molto importante la quarta generazione del powertrain elettrificato del gruppo che viene introdotto in vari modelli, annunciato al Salone di Ginevra. Sergio Solero, presidente A di BMW Italia. Una edizione estremamente elettrizzante qui a Ginevra per il gruppo BMW 2019, ricco di novità. Non solo la nuova BMW Serie 3, la nuova BMW Z4, ma anche una totalmente rinnovata ammiraglia, la Serie 7, che si rinnova nel design dell'esterno, si rinnova però anche nei contenuti tecnologici, nei sistemi di assistenza alla guida. E poi la declinazione SUV della nostra ammiraglia, quindi la BMW X7, completamente nuovo modello che si viene ad aggiungere alla gamma dei SUV del gruppo BMW. Ma molto importante, e per questo dicevo elettrizzante, la quarta generazione del powertrain elettrificato del gruppo BMW, che viene introdotto su vari modelli, a partire dalla X5 e dalla Serie 7, con un sistema totalmente nuovo, con batterie sempre più potenti e che riescono a garantire fino a 80 chilometri di autonomia in modalità pura elettrica. E' la classica espressione dell'impegno di Toyota sugli sport motoristici, a Ginevra la presentiamo in anteprime europea, una leggenda arrivata alla quinta generazione che mancava da 16 anni, ha detto l'AD di Toyota Italia, Mauro Caruccio. Il salone di Ginevra è un salone anche quest'anno molto ricco per Toyota, siamo qui, presentiamo diverse novità, in particolare quest'anno abbiamo un taglio molto sulle vetture sportive perché presentiamo una leggenda di Toyota, la Supra, una vettura iconica che ha appassionato tantissimi intenditori di vetture prestazionali italiane e torniamo con questa vettura che è arrivata alla sua quinta generazione, mancava da molti anni, da 16 anni, è la Supra. La Supra è la classica espressione dell'impegno di Toyota sugli sport motoristici, l'impegno quest'anno non potevamo celebrarlo nel miglior modo possibile perché nell'anno 2018 Toyota sia nelle gare di endurance con la gara di Le Mans, sia nel mondiale rally che anche nella gara di durata della Dakar ha primeggiato con i suoi prodotti. Ecco, il modo migliore per festeggiare non poteva essere che la presentazione come anteprima europea qui a Ginevra della Supra. Andrea Placani, responsabile della comunicazione di Subaru Italia, illustra tutte le novità portate dalla casa delle Pleiadi al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra 2019, tra cui spicca il sistema e-boxer per l'elettrificazione dei modelli. Subaru a Ginevra porta ben quattro novità, lasciando stare per un momento quello che è il concept dietro di noi, che non sappiamo quando verrà, se vedrà la luce, sicuramente noi concentriamo la nostra attenzione su quello che è l'e-boxer, il nostro sistema hybrid che arriverà all'inizio dell'anno prossimo, fine quest'anno, inizio dell'anno prossimo, con sui due modelli, XV e Forester. La cosa che ci piace molto comunicare è che e-boxer arriva in un modo completamente diverso da quelli che sono gli ibridi attualmente sul mercato, di solito noi abbiamo delle caratteristiche che sono un po' diverse, perché siamo un marchio piccolo e quindi dobbiamo sicuramente fare qualcosa di diverso. E-boxer va in questa direzione, perché abbiamo voluto mantenere quello che è il DNA del nostro brand anche sui nuovi prodotti, però dando qualcosa in più, mantenendo quello che è il dinamismo, mantenendo quello che è appunto il comportamento della vettura su strada e nel fuoristrada, però naturalmente stando attenti a quelli che sono i consumi, quelli che sono le omologazioni per entrare nei centri cittadini, dove ci sono i blocchi, insomma l'ibrido era un gioco forza, uno step che bisognava affrontare anche in casa Subaru. Grazie a tutti.